IMPRESA ONORANZE FUNEBRI SAN CARLO Servizi funerari 24 ore su 24 L'impresa funebre San Carlo opera 24 ore su 24 occupandosi di tutte le pratiche inerenti il decesso per garantire un servizio completo e accurato L'azienda è abilitata ad ogni tipo di trasporto con autovettura per trasporti nazionali ed internazionali ed effettua tutti i servizi inerenti all'organizzazione della cerimonia funebre cremazioni incluse dall'allestimento di camere ardenti al disbrigo di pratiche burocratiche fino alla preparazione della salva Si occupa anche di addobbi floreali e realizzazione di foto ricordo avvisi di lutto e ringraziamenti il tutto con la massima riservatezza per garantire ai clienti una cerimonia composta e raccolta che onori le ultime volontà del caro istinto impresa funebre San Carlo serietà e tatto